ciao e benvenuto a questo nuovo video saper cogliere l'attimo sapere aspettare avere anche una dose di follia in quel momento una grandissima fede la fede ritorna regolarmente nei miei video collere l'attimo e saper vivere senza stressarti senza avere 50.000 obiettivi di realizzare ogni giorno collere l'attimo e lasciare spazio all'ignoto per manifestarsi quell'ignoto quell'ignoto accade ti arriva quando lasci spazio quando sei un po vuoto di idee quando accetti di vivere il tuo quotidiano così com'è senza aspettative senza pensare a quello che farai domani ma sapendo che fai sempre la cosa giusta e ora sono qui per questo video un video nato così all'istante un sentito mi ha detto fai questo video prendi la telecamera filma prendi una nuova posa e racconta alcune storie ai tuoi telespettatori perché sicuramente alcuni di loro si domandano dove sei finito e dove sono finito beh sono finito nel vuoto nello spazio dove tutto è possibile dove non niente dove quello che pensavi di conoscere prima si scioglie come neve al sole e lascia spazio a un nuovo se a un nuovo io a una nuova manifestazione di te stesso manifestare lasciare stare quello che non puoi cambiare e cambiare quello che puoi cambiare non è la questione di essere effetto e non causa ma semplicemente è vivere al meglio fare del tuo meglio ogni volta ad ogni istante in ogni giornata e come fai a farlo quel meglio ebbene con la disciplina mettendosi in discussione ricominciando da zero ricominciando un nuovo ciclo io amo i challenge amo le sfide delle sfide che durano 21 giorni ognuno può lanciarsi la sua sfida e questo video è proprio per invitarti a lanciare una sfida di 21 giorni a partire da adesso ti ripeti per 21 giorni e fai la stessa cosa che sia un'attività sportiva di movimento che sia lo studio che sia la cucina e ripeti la stessa cosa ogni giorno e ogni giorno ripetendoti ti senti più forte per questo è necessario utilizzare il tuo corpo non solo la tua mente il tuo corpo deve essere movimento tu nasci da un movimento allora per riprogrammare le tue cellule entra nel movimento ripeti quel movimento per 21 giorni prima ti ho detto che puoi anche studiare per 21 giorni ci sta ma il risultato non sarà così forte e tu non sarai così forte invece quando lavori sul tuo corpo quando utilizzi quello strumento meraviglioso di riprogrammazione cellulare il corpo in movimento registra ogni giorno lo stesso comportamento e quelle cellule imparano un nuovo movimento un nuovo stato d'essere un nuovo stato emotivo che è positivo che aver raggiunto ogni giorno in quel 21 giorni quell'obiettivo e ogni volta è una vittoria quando è terminato questo esercizio questo movimento che ripeti ogni 21 giorni scusami che ripeti ogni giorno per 21 giorni a quel punto il tuo corpo si sente forte le tue emozioni sono forte tu hai vinto ogni giorno e ogni giorno prendi nota di come ti sei sentito di come si sente il tuo corpo capito questo è il messaggio per oggi un abbraccio forte a te una bellissima giornata realizza il tuo challenge sceglilo bene sicuramente deve essere qualcosa che ti piace fare ci sono due possibilità molto semplici vai a correre cammina fai in palestra inizia un corso di ballo inizia della meditazione dello yoga delle respirazioni tutto quello che movimento ti porterà ad un altro livello ad una nuova grandezza che era già lì con te ma che prima non vedevi ok grazie di mettere un like al video di condividerlo con i tuoi amici di attivare la campanella per vedere i prossimi video quando si presenteranno e vivi 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 oggi per vivere domani inizia oggi un abbraccio ciao